Ciao, io sono Emanuela Manca, sono la sociologa del gruppo Tutor Smart City. In questi anni ci siamo occupati di dare un supporto alle amministrazioni comunali che hanno partecipato a Smart City per l'elaborazione del PAES. In particolare il gruppo dei tutor socio-economici del quale faccio parte si è occupato di contribuire a dare un supporto ai territori per coinvolgere la cittadinanza, nonché le aziende e tutti gli stakeholder locali, al fine di costruire un PAES che fosse il più possibile partecipato e quindi condiviso. Fino ad oggi abbiamo lavorato tantissimo attraverso una serie di laboratori, attività su tutti i territori e con questa attività di energia in circolo stiamo in qualche modo concludendo un percorso e ci auguriamo che sia anche però l'avvio di una nuova fase che vada a far tesoro di tutte le istanze raccolte in questo periodo per l'attività che abbiamo realizzato, anche per farli convergere su tutte le nuove risorse che ci sono nella nuova programmazione europea. Grazie